Il team Valverde ha perso il peccato, quindi sette uomini a coltura e due... I fuggitivi, sette uomini al comando, i seguitori. Eccolo qui, se ne aggiunge niente al gruppo, si è ricompattato. Ecco, mancano quattro giri a termine, un po' di inseguitori. Ecco, Gianmarco Agostini. Un'intervista da Gianmarco Agostini, che è venuto a presentare la nostra gara. Attenzione, fase calda, tre giri a termine. Ormai la vittoria se la giocheranno questi otto corridori. Con il rientro di Ormai, che è diventato il otto con le non le congure. E' vincente! E' passaggio dal gruppo che ha usciuto nel 393, 131 a termine! 131 a termine! Attenzione, 131 a termine! M4, M5, 20 giri. Anche qui la M3, M2, M1 e l'unico alla gara. Ecco, questi sono gli inseguitori. E' anche cominciato ad arrivare anche i giovani. E' arrivato anche i pluripittori. Avranno 40 secondi dei fuggitivi. Siamo sempre all'autodromo di Castrezzato. Seconda gara della giornata. M6, M7, M8. Ci sono un gruppo di otto atleti in fuga. Molto probabilmente Ettore e Manenti. Attacco, attacco gli Olmi. Gli Olmi. Siamo sempre in fuga. Amati! E' un nuovocio per inseguire. Gli otto di testa, 393! Turchi, se ti chiede! Sto, scovi! Gli Olmi! Sono sempre in fuga! Siamo sempre in fuga! Siamo sempre in fuga! Guardate! Siamo sempre in fuga! Chi! Questo è per il fuga! Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, è un gruppo di inseguitori ormai per loro non c'è più speranza si giocheranno la volata in otto molto probabilmente Ettore Mane... Ecco, questo è giro E' il giro della campagna! Ecco il gruppo La campana anche per il gruppo Comunque si giocano la volata in otto Molto probabilmente Ettore Manenti E' mia la Rai perché la Rai è figlio di Troia Quanto è bella che è cantoso! Ecco questo è il gruppo degli inseguitori Eccoli qui Sono rassegnati Per questa gara Vi attenzio alla pista Per ora ancora chiuso per un attimo Signorina Tutto l'esta E' il corso del mondo Vino Quella è il corso del mondo Quanto è il corso del mondo E' il corso del mondo E' il corso del mondo E' la rai Abbiamo avuto l'onore di filmare tantissime gare, tantissime volate di questo grande campione. Ecco la volata del gruppo, un arrivo. Ecco siamo pronti.